Continua ad essere al centro dell'attenzione la frana di Contrada Maietta a Caolonia Superiore, una frana che rischia di coinvolgere l'intero centro storico e la chiesa dell'Immacolata che si trova adiecente al punto in cui il terreno è sceso giù. Un problema questo che si trascina da parecchi anni e che ha visto anche un acceso dibattito politico tra le forze in campo, tra l'attuale amministrazione comunale guidata da Caterina Belcastro e l'opposizione in consiglio comunale, ma poi anche l'arciconfraternita che non ha lesinato di polemizzare sul mancato arrivo dei finanziamenti. Ora anche la politica regionale converge sulla frana di Maietta, tant'è che il candidato Carlo Tanzi si è recato sul posto per evidenziare la drammaticità della situazione. Tanzi insieme a un gruppo di suoi sostenitori ha voluto mettere il dito nella piaga, evidenziando anche da geologo e da ex capo della protezione civile come il problema era già stato affrontato nei tempi passati, senza che però si trovasse soluzione, solo tamponi. Allora qua siamo incontrati a Maietta, a Colonia Superiore, qui siamo in una frana che si è mossa nel 2015, si è mossa in modo consistente e che poi ha continuato a muoversi anche negli ultimi anni. Qua quando dirigevo la protezione civile avevamo installato un sistema di monitoraggio, ancora vediamo i sensori che in tempo reale ci dà cognizione del movimento, quindi può in emergenza provvedere allo sgombero di tutte le famiglie che abitano in questo contesto. Qua vediamo una grande frattura, la vediamo qui se possiamo spostarci, vediamo una grande frattura, una frattura profonda, circa 50 metri, questa arriva fino a 50 metri di profondità perché a 50 metri ci stanno delle argille e quindi qua abbiamo un pacco di materiale un po' più relativamente roccioso, più consistente che galleggia su queste argille e quindi il materiale si stetta come lungo questa frattura, frattura che ancora continua nel suo movimento, vediamo che questa frattura si sta propagando, vedete la frattura è questa, si sta propagando verso quelle case, quindi nel corso degli anni se non si prendono provvedimenti questa frattura inesorabilmente arriverà a quelle case, già abbiamo qualche segno, qualche lesione che è un'avvisaglia verso un'evoluzione di questo fenomeno. Poi vediamo qua sullo sfondo di quella frattura abbiamo tutte queste case che sono state fatte sgomberare, sono state fatte in gran parte sgomberare durante l'emergenza e la frattura vediamo che interessa queste case, interessa soprattutto i piani bassi, le corti delle case e sullo sfondo, non so se possiamo arrivarci piano piano, abbiamo una chiesa del 1700, la chiesa dell'Immacolata che è minacciata seriamente da questa frana, ci stanno delle lesioni all'interno della chiesa, ormai questa zona non è più percorribile anche perché vedete tutto questo piazzale si è abbassato di circa un metro, il fenomeno continua, l'acqua continua a scavare e voglio denunciare anche il fatto che nel 1995 in questo territorio sono stati investiti circa 12 milioni di Euro per mettere in sicurezza questo territorio e se i soldi fossero stati spesi bene avrebbero consentito di risolvere il problema, definitivamente, invece sono stati spesi male, sono stati spesi male perché qua abbiamo dei tiranti che servivano per agganciare questo costone inistabile alla roccia su cui è fondato tutto il paese di Colonia Superiore, però questi tiranti anziché essere profondi 45 metri sono stati, per un fatto su cui mi auguro che faccia anche luce alla magistratura sono stati attestati a 15 metri, quindi non servono a niente, infatti i risultati sono questi. Ora ho appena parlato col sindaco, col sindaco Belcastro mi ha detto che sono stati stanziati 2 milioni di Euro che servono più che altro per arginare il problema, servono per poter allontanare le acque da questo contesto, però sicuramente per risolvere definitivamente questo problema c'è bisogno di un intervento, di un progetto molto più importante, perché qua parliamo di una frana profonda che arriva fino a 50 metri di profondità, 50 metri sono assai, sono immaginate 4 o 5 palazzi messi uno sull'altro di 5 piani più o meno e quindi non parliamo di volumi trascurabili. Quindi come già ho detto qualche anno fa, le frane sono come dei tumori, se si prendono subito si risolvono i problemi e fin quando sono piccoli si possono arginare, però se poi la frana non viene presa in tempo, se non si fanno interventi immediatamente per la messa in sicurezza, inesorabilmente, la frana continuerà e si propagerà verso le case del bellissimo centro storico di Caolonia.